Presidente, dopo il successo alle amministrative del centro-sinistra in centri importanti come Milano e Napoli, si può dire che sta tramontando il berlusconismo? Indubbiamente sta tramontando Berlusconi e forse sta crescendo una reazione anche contro il berlusconismo. Sta a noi interpretarla, coltivarla, trasformarla in un sentimento positivo di impegno per il nostro Paese, forse a partire dal voto sul referendum. Un successo che ha interessato anche il nostro territorio, il Metapontino, con la riconferma a Scanzano e a Pisticci con un centro-sinistra che sarà sia la maggioranza che l'opposizione. Sì, ho visto questi buoni risultati, non possono che far piacere d'altra parte in una terra dove già governiamo le regioni, i comuni e le province principali. È un'isola felice anche nel sud della Basilicata, auguriamoci che riesca a dilatarsi.